Io sono un narratore di cose, di fatti, di eventi, non di simboli, non di allegorie, non di metafore. Sono scrittore realista quindi sotto questo aspetto e mi piace raccontare delle storie. Io non credo che ci siano tanti scrittori in Italia, narratori di storie, io credo di essere tra quei pochi. Io sono uno scrittore di città e vivendo a Milano lo considero un osservatorio privilegiato perché a Milano succedono le cose prima che altrove e quindi la materia romanzesca non manca mai, ci sono sempre dei risvolti, delle cose da esplorare.